il bacio bellissima allora noi siamo qua nello studio studio atelier casa angolo di riposo del maestro pillittu nobile maestro dell'arte plastica scultoria qua c'è anche il maestro cappai e stiamo lascia il maestro pillittu sullo sfondo lo vedete qualora voi non ci crediate c'è anche mia moglie barbara ardau che parteciperà anche lei a questo simposio di scultura il primo simposio di scultura capoterrese che in omaggio a sante fisio si chiamerà martirio plastico come condizione metaforica quella del martirio cristiano connessa al martirio del fare plastico scultoreo quindi da questo punto di vista noi ringraziamo il sindaco d'essì si chiama d'essì sì il sindaco d'essì l'assessore marras perché ci consentiranno di mettere in posa questo progetto non solo per capoterra ma per cagliari città metropolitana tutta eccolo la maestro 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 pillittu parli parli buonasera devo dire sto offrendo un bicchiere di vino alla ecco qua cin stiamo brindando prego queste sculture che verranno realizzate a capoterra lo facciamo non solo per capoterra per tutta la comunità e anche per i turisti e per le persone che passano nella via di sante fisio per creare è un senso di pace sia a noi e a loro pace del fare per fare la pace per fare perché con tutto il sistema mondiale che c'è del guerra fondaio del fai da te che non si capisce cosa si fa sì e chi fa cosa esatto e noi facciamo la pace certo